Ami sollazzarlo e accarezzarlo impunemente, fregandotene delle dicerie sulla cecità? Caro prugnettaro, da oggi c'è un modo in più per divertirti. C'è Mano in più Bedelli e il Salva Prugnette Bedelli. Chi accoppiati renderanno più piacevoli le visioni di grandi capolavori come Troianic. Nel convento c'è un fraticello sveglio, Dito Magico, il Grande Fratello Calvo, Gigi il Terrone in viaggio ad Amsterdam, Neri per casa, mia moglie davanti e dietro tutti quanti. Mano in più Bedelli e il Salva Prugnette Bedelli.